Firenze, 19-7, conosciamo la forza della Juve, e per questo sappiamo, che ci sarà tanto da lottare e soffrire, ma siamo pronti. Andiamo a Torino con personalità e convinzione, consapevoli che dovremo andare oltre le nostre capacità. Così Stefano Pioli aspettando la trasferta di domani sera contro la Juventus, da sempre la partita più sentita dai tifosi Viola. Anche i nuovi hanno capito l'importanza di questa gara, ha continuato il tecnico Viola, se c'è una partita in cui bisogna dare qualcosa in più è quella di domani, per la forza dell'avversario, e perché Firenze la sente tantissimo. Un accenno all'ex Bernardeschi, non ho particolari rimpianti, già al mio arrivo la sua situazione era abbastanza chiara, è un giocatore di qualità, ma io mi godo quelli che ho, e infine la conferma che per la prima volta tra i convocati ci sarà anche Saponara.